Allora, quest'ultimo brano che vi dedichiamo, un brano di guerra, un brano di Apocalisse, è stato preso dal passo 42 al 44 dell'Edda, del Voluspo, della Genesi, dove la Vegente prevedeva appunto l'arrivo dell'Apocalisse, anche per il mondo nordico dell'ora. Questo brano si chiama Rabino Rock. Grazie a tutti. 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 Lupus, è stato un grande onore suonare per voi questa sera e che dire, speriamo di rivederci presto, magari una prossima volta. domani, 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 domani. No, fra un'ora. Abbiamo una richiesta, ok? domani, 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 domani.